La nostra filosofia non è solo mantenere, proteggere, conservare, ma è riaprire. Ogni piccolo luogo che è stato finalmente messo in sicurezza viene riaperto. Qui invece due regioni, la quinta e la nona, a lungo chiuse, alcune strade sin dal terremoto dell'80, non erano percollibili, erano tutte puntellate. Questa strada in particolare non si poteva attraversare perché era stata, purtroppo, bombardata nel 1943. I basoli erano tutti saltati, il lavoro ha qui significato anche un certosino lavoro di catalogazione, numerazione dei blocchi, una filologica o ripristino del basolato, dei bacci a piedi e poi lo scavo di un'area che era già abbandonata nel 1979. Qui alle mie spalle è una domus che è stata restituita da queste ricerche con tutti i mosaici che aveva, che sono tardo dei repubblicani, molto belli, in Cocciopesco e Signino.